Nella parte dedicata alle notizie e dai servizi da Napoli e dai comuni della provincia, nella parte dedicata alle isole, la procura di Napoli accetta la richiesta di autodemolizioni per due case abusive all'Acco e Casamiccio, la riviata intanto approcita la demolizione della piccola casa abusiva della signora Elisabeth Martevi sera c'è stata un'assemblea di solidarietà. Il porto turistico di Sant'Angelo verrà gestito dal comune, trasporti marittimi e ancora soppressioni di forse della MED, ma rifondi della regione per l'ufficio del giudice di Facilisca e il commento dell'avvocato Gian Paolo Bono, prevenzione sanitaria approcita il racconto dell'assessore Maria Capodanno. Questa sera di crisi e di progetti di sviluppo parleremo in diretta ad Uno Nessuno Centomila, il punto del carnevale organizzato a Casa Micciolà e le immagini del carnevale a Serrara organizzato dalle scuole. In seconda serata parte la nuova rubrica culturale di Teleins che per finire come sempre spot, meteo ed appuntamenti a Trapporti.